Sono Giacomo, ho fatto il liceo linguistico all'istituto Gadda di Paderno, che è anche il comune dove sono cresciuto. I miei professori bene o male hanno capito, io gli ho comunicato che volevo fare qualcosa riguardante l'ambito del video in quinta superiore e quindi mi hanno semplicemente incoraggiato a fare quello che volevo perché hanno capito che volevo fare qualcosa di specifico e che avevo l'idea abbastanza chiara. Io sapevo che volevo fare esattamente questo da anni, da quando ero ancora più piccolo. Io ho lavorato per fare esattamente questo, non è che ho cominciato da dopo le superiori, quindi è stata semplicemente una continuazione lineare di quello che già stavo facendo da ragazzino, da più piccolo, ovviamente in maniera molto più embrionale e imbarazzante anche se vogliamo, ma l'ho sempre fatto perché sapevo che avrei voluto fare questo una volta finita le scuole superiori, insomma. Mi sono appassionato al mondo dei video sin da bambino e quindi ho sempre seguito il mondo social, video e quant'altro, finché non ho capito che volevo fare un determinato tipo di video e comunicare determinati messaggi attraverso i video. Al tempo stesso non volevo frequentare una scuola da ragazzo tecnica riguardante quell'ambito perché sono anche molto interessato ad ambiti culturali, antropologici, storici, quindi volevo fare un liceo. Ho fatto il linguistico perché le lingue mi piacciono tanto, infatti le uso. Credo che sia possibile fare un lavoro tecnico e un lavoro creativo, professionale, di qualsiasi tipo, pur sempre perseguendo una formazione culturale. Questo per i ragazzi penso possa essere utile, non pensate di andare a fare una facoltà facendo poi quel lavoro nello specifico. Nella realtà, infatti, il 95% delle persone che seguono un corso universitario, quasi in tutti gli ambiti, non finisce per fare quella cosa o finisce per fare una variazione di quella cosa, applicando solamente le competenze e le conoscenze acquisite nel corso, nel proprio lavoro. Tra i 18, i 25 anni o anche dopo, se si vuole, è bene perseguire i propri interessi dal punto di vista conoscitivo e formativo di se stessi, della propria carattere, magari anche lavorando un po', facendo delle esperienze, in modo tale da essere poi capaci, in età più matura, più adulta, di applicare quelle se stesse conoscenze acquisite in età universitaria, giovanile, però magari in altra forma, non necessariamente facendo esattamente quello che c'era scritto nella scheda sbocchi professionali nel corso universitario, quando si è scelta la facoltà, quando si aveva 18 anni. Fare video, soprattutto per i social, in ambito divulgativo, mi sto specializzando in particolare nei documentari, sto tentando anche di cominciare a lavorare non solo in ambito social, perché non voglio lavorare solamente con i social. Ho un mio piccolo canale YouTube di 20.000 iscritti adesso, su cui pubblico ogni tanto dei documentari di viaggio, da viaggi che faccio in giro per il mondo, e poi collaboro ogni tanto con un altro canale YouTube molto più grande, di un milione di iscritti che si chiamano Valexio, sostanzialmente i lavori che facciamo ogni tanto sono sempre di tipo documentaristico, su temi che lui magari vuole approfondire, quindi andiamo in quel luogo, giriamo un documentario e io ne curo di fatto la regia, il lato creativo, il montaggio, le riprese, eccetera. La mia giornata tipo può andare dal passare tutto il giorno a scrivere un testo, a passare tutto il giorno a fare ricerche su come visitare un luogo, come raggiungere un luogo del mondo, a prendere contatti con sponsor, aziende, eccetera, o a soprattutto la parte più lunga e massacrante, anche quella del montaggio video, che prende davvero tanto tempo. Se mi aspettavo che fosse così, no, chiaramente, sia in positivo che in negativo. Quando ero leggermente più piccolo guardavo solamente agli aspetti positivi, che poi ho riscontrato, ma non mi concentravo particolarmente sulle difficoltà che invece si incontrano, difficoltà di vario tipo, nel mio caso, che possono essere sia tecniche, quindi dover lavorare tantissime ore in poco tempo, sia di stress, perché a volte vengono richiesti i lavori in pochissimo tempo, sia a volte psicologiche per il tipo di lavoro che faccio, perché facendo documentari c'è una certa componente di responsabilità nel lavoro che faccio, perché è un lavoro divulgativo e io cerco sempre di farlo nella maniera migliore possibile, senza guardare alla quantità, ma alla qualità del lavoro, ed è anche uno dei motivi per cui non mi piace particolarmente focalizzarmi, solo sul mezzo del social, perché è un mezzo che invece ruota soprattutto sulla quantità e non sulla qualità. Tendenzialmente ci sono percorsi in accademie private che durano in modo similare, parallelo alle università pubbliche, tre anni e poi magari si fanno un altro anno di master nello specifico, perché si decide di diventare artista in una particolare disciplina. Poi addirittura c'è la facoltà di scienze della comunicazione in università, dove si fa un po' di tutto e si studiano tutti gli ambiti e poi anche l'applicazione commerciale, mentre c'è una formazione tecnico-artistica in sempre università oppure accademie, in cui tu ti occupi di fare solamente un lavoro tecnico professionale, che può essere il montatore, l'operatore di camera, il regista. Ognuna di questi corsi ha un corso poi diverso, magari iniziano con degli esami in comune, ma poi chiaramente si specializzano, si ramificano. E poi c'è anche la parte della grafica, della 3D art, quindi è un mondo che include tutto questo. Quindi un ragazzo può tranquillamente scegliere di frequentare una di queste accademie per acquisire quelle competenze tecniche. Se invece ti devo parlare di me, invece io frequento l'università in cui seguo quello che mi interessa, cioè un interesse culturale, nello specifico antropologia, all'Università di Bologna e nel frattempo lavoro. Quindi in che modo fare video c'entra con studiare antropologia? In realtà c'entra perfettamente perché quello che sto facendo è realizzare documentari che parlino di culture e di storie e di aspetti geopolitici da vari paesi del mondo e studiare l'ambito antropologico e il metodo antropologico per comprendere meglio le situazioni che analizzo e che cerco di raccontare attraverso il mio lavoro è la cosa migliore che posso fare. Il consiglio di farlo a chiunque sia interessato a conoscere il mondo. Il consiglio che posso dare è piuttosto quello di seguire quello che si vuole fare se si ha un'idea ben chiara, a prescindere da quello che gli altri diranno riguardante quell'idea. Soprattutto se si tratta di qualcosa che non ha un percorso definito e quindi viene reputato come impossibile o difficile da comprendere per la persona media, per l'amico, talvolta anche dagli insegnanti, che non riescono magari bene a comprendere quando un ragazzo ha un'idea specifica. Per chiunque altro invece vuole semplicemente avvicinarsi dal punto di vista creativo e professionale al mondo del video, consiglio comunque sempre di perseguire questi corsi, questi insegnamenti o la propria passione perché di fatto fare arti visive con i nuovi mezzi tecnologici è una figata, è bellissimo. Con molti più progetti realizzati riguardo a quello che sto facendo che ho in mente adesso e che spero che a 30 anni avrò concluso e non ci starò ancora lavorando e con cose ancora più fighe e di portata ancora maggiore sia dal punto di vista commerciale che progettuale e poi, importante, spero di vedermi meno ignorante di ora ma comunque ignorante perché lo rimarrò tutta la vita ma che conosce più cose e nelle cose che mi interessano e anche in altri ambiti per non vivere nel pregiudizio e riuscire a comprendere il mondo sempre meglio anche se mai del tutto. Grazie